Ciao ragazzi e ragazzi, eccoci finalmente arrivati con un nuovissimo episodio di Spirity with me, Cristiano Cervigni, oggi, come preannunciato, non andremo a parlare di gossip italiani, non andremo a recuperare ennesimamente Mark Caltagirone che faccia un piccolo PS se vi siete persi tutta la storia completa del Mark Caltagirone Gate e Pamela Prati per festeggiare la fine di questa leggenda del gossip. Dopo ben 5 anni vi lascio il link diretto qua sotto nell'info box così potete andarlo a recuperare. Ma vediamo a noi, oggi, in questo episodio di Spirity andiamo ad affrontare degli scandali che riguardano una categoria di persone o comunque una categoria di cose, di aziende che fino a questo momento noi avevamo ignorato. Ma facendo le nostre dovute ricerche abbiamo scoperto che anche nell'alta moda ci sarebbero degli scandali che penso che dobbiate sapere. E quindi andate a prendere il vostro drink o snack preferito come sempre, mettetevi comodi, mettete mi piace a questo video se vi piace, se vi può intrattenere e soprattutto fatemi sapere se magari poi volete anche che io parli insieme a voi di queste cose, oltre che al classico becero gossip. Iscrivetevi anche al mio canale mi raccomando ma adesso sorso iniziale e andiamo a parlare degli scandali della moda. Oggi principalmente parleremo di tre brand che ultimamente sono tornati alla ribalta su tutti i giornali, su tutti i siti di informazioni perché starebbero facendo delle cose un po' truffaldine. Ma andiamo con ordine e inizierei io da L'Oropiana. Per chi non lo sapesse che cos'è L'Oropiana, L'Oropiana è uno dei brand di lusso più di successo e anche più amato dai veri ricchi in quanto rappresentante di quella che è chiamata la Quiet Luxury. Poiché tutte le collezioni L'Oropiana non è che siano comunque riconoscibili perché non hanno il logo bene in vista, non sono super truzze, non è nemmeno sdoganata questa marca, questo brand ha i più. E anche tramite i colori che comunque rimangono sempre neutri, pastellini, begiolini, marroncini, diciamo che passa anche inosservato per gli inesperti. Ed è proprio questo suo non sbattere in faccia il logo facendo diventare una persona che lo indossa un cartello pubblicitario che ha tirato i veri ricchi. E le persone che vogliono indossare capi di super qualità ma al tempo stesso non vogliono destare troppe attenzioni. L'Oropiana è un'azienda italiana fondata nel 1924 e ad oggi fa parte del gruppo LVMH. Il gruppo LVMH è un gruppo enorme che ha centinaia di brand sotto di sé, tra cui Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Céline e anche L'Oropiana. È considerato uno dei gruppi più di successo del mondo anche perché è coltata in borsa per ben 202 miliardi di dollari. Avete capito bene? 202 miliardi di dollari. E ricordatevi questo miliardo di dollari perché L'Oropiana ultimamente è sotto l'occhio del ciclone per via di un'inchiesta scandalo che ha portato alla luce delle cose truffaldine o comunque non etiche che L'Oropiana farebbe ai suoi fornitori. Allora andiamo per gravi. Innanzitutto sul sito di L'Oropiana loro parlano di loro stessi così. L'Oropiana rappresenta il punto di riferimento per i tessuti più preziosi al mondo. E parlano anche dell'eticità, del lavoro, dell'eticità, di come sono trattati gli animali da cui provengono le materie prime per poi fabbricare un loro maglione rivenduto poi nei negozi per ben 9 mila euro. Ma ci sono anche delle giacche e dei bomber che vengono fatti pagare 22 mila euro. E voi vi direte, ma com'è possibile spendere 9 mila euro per una maglia o più di 20 mila dollari, 22 mila euro per un giacchetto? Ebbene, perché queste maglie, questi giacchetti sono fatti con un materiale molto pregiato. Anzi, io oserei dire il più pregiato o comunque uno nelle top 3 dei materiali e delle lane più pregiate al mondo e sto parlando della lana di Vicugna. Che cos'è la Vicugna? La Vicugna è un animale che, allora io non so come spiegabelo, però è descritto come un mini cammello, è una specie di lama, ma non è un lama, è una cosa tutta a sé, che abita soltanto in determinate zone nelle Ande del Perù, quindi in America Latina. Quest'animale anticamente era molto prosperoso e comune in tutte le Ande dell'America Latina, solo che una caccia sregolata, l'arrivo degli europei e comunque poi lo sfruttamento ha ridotto drasticamente le quantità dell'animale disponibile e quindi è, diciamo, anche in via di estinzione. E in questo momento, in questi anni, si trova soltanto in delle parti del Perù, ad alta quota, appunto nelle montagne delle Ande, e soltanto da questo animale viene estratta poi la lana di Vicugna, che è appunto la lana più preziosa al mondo, il cui filato vale fino a 3.000 euro al chilo. Ok? Capite? Perché poi il maglione di loro piana fatto in lana di Vicugna viene fatto pagare 9.000 euro. Questi animali, però, non possono essere addomesticati, perché nel caso in cui l'animale Vicugna venisse addomesticato, la sua lana, la lana che produce, varrebbe meno, perché perde le proprie qualità e le proprie proprietà, ed è per quello che questa lana, oltre al fatto che ci sono pochi esemplari al mondo, ma addirittura gli esemplari che le persone devono tosare non possono essere addomesticate, ma anzi devono essere tenute libere allo stato selvaggio, e soprattutto per catturarli e per tosarli ci vuole una fatica immane, e lo possono tosare una volta all'anno, anzi anticamente la facevano addirittura una volta ogni tre anni, per far in modo che questa lana rimanesse comunque sempre splendida e splendente, ma al giorno d'oggi, una volta all'anno, queste, le popolazioni che abitano in queste lande desolate, delle ande del Perù, devono armarsi di pazienza e di fatica per catturare gli esemplari a mano a mano, andarli a scovare in questo territorio e tosarli, e poi rilasciarli in natura. Insomma, è una materia prima super pregiata, super costosa, anche per tutta la lavorazione e tutta la fatica che c'è dietro. Arriva adesso quindi lo scandalo l'Europiana. L'inchiesta fatta da Bloomberg ha fatto venire a galla delle cosine un po' poco etiche riguardante l'Europiana, anche perché la Vicugna praticamente abiterebbe in 5.000 ettari di territorio lì nelle Ande, lì del Perù, come vi ho già detto. E secondo voi chi ha acquistato tutti e 5.000 gli ettari di questo territorio? L'Europiana diventando monopolista, diventando quindi l'unico acquirente, l'unico interlocutore tra i contadini che tosano queste bestie e il loro commercio. Già qui caschi male perché dici, ok, io, facente parte della comunità indigena che la leggo di Barrientos, che sono l'unico che posso tosare questi animali perché abitano nel mio posto, vedo il territorio della Vicugna essere venduto ad una grandissima azienda. Io che sto filando la lana e ti do la materia prima, non ho più la possibilità di scegliere se venderla a te o se venderla a un altro, perché comunque il territorio è di tua proprietà e quindi il prezzo me lo farei te, o comunque da interlocutore tra me e un altro ci sei per forza te, e quindi io devo stare alle tue leggi. E voi direte, vabbè, ma ci può stare, o fatto sta che comunque è una lana super pregiata, l'Oropiana pagherà fior, 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 fior di quattrini questi poveri cristi che devono stare a cacciare, a tosare, a fa... Ecco, l'inchiesta a scandalo sta tutto lì. Perché se fino al 2012 l'Oropiana avrebbe pagato 400-420 dollari al chilo, per questa lavorazione data dai contadini, adesso il prezzo si sarebbe ridotto a 280 dollari al chilo. E nel mentre questi contadini un anno o altre entrate, perché devono stare a quello che dice l'Oropiana, perché il territorio ha comprato lui. E si dice, sempre in questa inchiesta, che addirittura quando ci fu la trattativa tra lo Stato del Perù e l'Oropiana per la compravendita di questo territorio, chi ha aiutato le persone che hanno aiutato all'epoca l'Oropiana a riuscire a comprare il tutto per un prezzo anche vantaggioso, adesso sta lavorando per loro in Perù, ma verrebbero pagati fior, fior, fior di quattrini come ringraziamento. Al tempo stesso però questa comunità indigena, che praticamente si fa tutto il lavoro iniziale, no, per estrarre questo filato, viene sottopagato. Ma non solo viene sottopagato, ma vedono anche ridursi drasticamente di quasi la metà il loro pagamento, il loro salario. E mentre l'Oropiana aumenta i loro prezzi delle cose, appunto fa pagare maglioni fino a 9.000 euro, dall'altra parte c'è un'intera comunità che lavora per loro, che vivrebbero in condizioni disumane e soprattutto di estrema povertà. Tant'è che nell'inchiesta vengono anche intervistate alcune di queste persone che dicono che ci sono dei periodi dell'anno che loro non hanno nemmeno nulla da mangiare e non sanno più come fare. Capite che quindi tutta questa eticità che loro millantano o comunque che i brand di lusso millantano, a differenza dei fast fashion, viene meno. Capite che adesso è una cosa che ha scioccato tantissime persone. Perché magari ci sta, vuoi guadagnare sempre di più aumentando i prezzi delle tue cose che vendi nei negozi perché boh sei comunque un brand che usa determinate materie prime e vuoi arrivare a una certa fascia della popolazione? Va benissimo, facci pagare 9.000, 10.000, 20.000 euro, quello che ti pare. Ma al tempo stesso le persone si sono anche dette ma scusa, ma te allora non solo vuoi guadagnare per il nome del brand ma vuoi anche abbattere i costi di produzione sfruttando delle persone che lavorano per te che senza di loro te non puoi fare il filato di vicugna, non puoi fare i maglioni in quella lana super preziosa, calda, accogliente. Ma anche loro senza di te non possono venderlo da nessuna parte, non possono farsi altre fasi della costruzione di questo filato perché non avendo soldi essendo sotto 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 pagati non si possono neanche adeguare alle richieste di mercato o non potrebbero nemmeno così vendere boh non lo so a Hermès Hermès vuole comprare il filato deve passare da loro piana non può andare direttamente da loro che tosano gli animali perché il territorio è di proprietà di loro piana e per quello che inizialmente vi ho detto che il gruppo di cui fa parte l'oro piana è quotata in borsa per ben 200 miliardi di dollari cioè avete 200 miliardi di dollari e poi andate a pagare dei poveri cristi che lavorano per voi in condizione disumana 280 dollari al chilo? Una roba che voi fate ripagare 10.000 euro? No, le persone non ci stanno e hanno richiesto a gran voce sui social il boicot l'oro piana allora vi devo dire che per la prima volta più facile di così non si può fare perché mi va bene boicottare le cose di loro piana fatte in vicugna perché tanto non ce l'avrei uguale 10.000 euro da spendere per un maglioncino è una cosa impensabile per le mie tasche fino a questo momento poi non si sa mai nella vita però tutti insieme possiamo boicottare l'oro piana continuando a non comprare niente perché tanto non ce lo possiamo permettere ma veniamo a noi perché se l'oro piana è sotto la lente di ingrandimento per questo mega scandalo c'è un altro brand che ho citato poco anzi non così a caso ma perché dobbiamo parlarne che negli Stati Uniti d'America non se la sta passando molto bene se si riferisce al libro di Hermanesse di Hermas sto parlando di Hermes la casa francese penso quella al percepito di noi comuni mortali sia quella più lussuosa quella che ti fa immaginare persone super ricche perché hai a disposizione delle Birkin da comprare o delle Kelly ecco Hermes non ha bisogno di presentazioni ma tutti noi sappiamo quanto siano belle le borse tipo Kelly tipo Birkin ma al tempo stesso anche quanto sia difficile poter possederne una poiché appunto per comprare una di queste borse ti devi mettere in una lista d'attesa sempre nel negozio sempre se loro vogliono sempre se loro accettano la tua richiesta della lista d'attesa e poi devi aspettare anche più di un anno per essere richiamata e poi andare a vedere questa borsa dei tuoi desideri che al 90% delle volte non è mai come te l'hai desiderata però ormai sei lì ormai la volevi che fai un laompri laompri ok e poi una volta che laompri vieni richiamato due mesi dopo oh c'è proprio il modello che vuoi e così ricompri anche quello marketing perfetto su questo punto di vista io devo dire bravo Hermes perché facendo questa cosa le persone si indignano ma al tempo stesso aumenti sempre di più l'hype per possedere una di queste borse e parlando proprio del come possiamo possedere una di queste borse arriva quindi la polemica lo scandalo che ha travolto Hermes lo scorso mese voliamo fino negli Stati Uniti in California penso a Los Angeles e ci sono due persone due clienti della Maison Hermes che hanno deciso di fare causa ad Hermes lo citano in giudizio per pratiche commerciali scorrette in quanto le due clienti dichiarano che la boutique di Hermes non gli vuole vendere la Kelly o la Birkin ma prima di fare questo si devono comprare tutto il resto del negozio infatti l'accusa sarebbe questa Hermes costringe i clienti che vogliono una borsa Kelly o Birkin a comprare prima decine di altri accessori che non vogliono per poi essere messi in lista d'attesa per la borsa in tutto questo in tutte queste vendite i commessi ci prendono ovviamente la percentuale quindi potrebbe essere una cosa fatta anche apposta non solo per far aumentare l'hype in queste borse del desiderio praticamente introvabili e anche inaccessibili ma comprando tutto il resto del negozio comprando tutti gli altri accessori prima di poter accedere alla lista d'attesa di questa borsa ci guadagnerebbero tutti a parte chi compra perché i commessi ci prendono la percentuale e soprattutto la casa di moda Hermes aumenta i propri guadagni a dismisura perché ovviamente se tutti si potesse omprare la Birkin o la Kelly così con uno schiocco di dita tra parentesi avendoci sordi perché anche le costano dai 10.000 euro in su chiusa parentesi sfido chiunque a non andare a comprare solo quelle e poi il resto delle ose che ha Hermes se le lasciano lì perché il desiderio ormai la leggenda è la borsa proprio per via di queste liste d'attese proprio per via della difficoltà per poterne ottenere una uscita fuori la notizia di questa citazione in giudizio da parte dei due clienti di Hermes alla casa di moda Hermes sono usciti 800 miliardi di video di ragazze e ragazze americane che denunciano la loro stessa situazione e alcuni dicono addirittura di aver speso in un anno più di 100.000 dollari in altre cartoffie in altre cose che loro in realtà non volevano soltanto per aggraziarsi il commesso per poi procedere con la lista d'attesa molti altri dicono io ho speso anche fino a 100.000 dollari ma alla fine non mi hanno dato nulla alla fine non mi hanno mai messo in questa lista d'attesa e quindi ho iniziato a boicottare Hermes ma andiamo a vedere legalmente giuridicamente che cosa significa questo schemetto perché ve lo vado a leggere vi parlo ancora degli Stati Uniti vi ricordo nello specifico questo supposto schema di vendita entrerebbe in conflitto con lo Sherman Act la più antica legge antitrust degli Stati Uniti che vieta la monopolizzazione di qualsiasi parte del commercio attuando una condotta predatoria escludente e anticoncorrenziale con il progetto lo scopo e l'effetto di mantenere illegalmente il suo controllo sul mercato e il suo monopolio e contemporaneamente con le altre leggi dello Stato della California come il Cartwright Act che vieta l'accordo costrittivo tra una singola impresa e gli altri soggetti del mercato per promuovere un sistema anticoncorrenziale ora la legge qui in questo aso parla chiaro evidentemente probabilmente questi due clienti possono vincere questa causa cosa succederà nel caso in cui loro vincano cioè cosa gli dice il giudice quello che mi domando gli dice ok Hermes gli devi vendere per forza la borsa o vieterà almeno negli Stati Uniti almeno nella California ad Hermes di fare questo schemetto lo scopriremo quando finirà il tutto ma indagando bene voi sapete che io la Birkin ancora non ce l'ho ma è uno dei miei sogni nel cassetto ho scoperto che questa pratica sarebbe molto in voga soprattutto negli Stati Uniti anche perché qui in Italia io non ho mai sentito i miei amici o le mie amiche o persone che conosco che hanno una Kelly o una Birkin di questo gioco di poter di dover comprare 800 miliardi di euro di altre cose prima di arrivare alla borsa io so che se sei cliente Hermes o comunque ci hai comprato anche soltanto una volta te puoi andare in negozio richiedere il tuo wish il tuo desiderio e poi sta a chi ti serve a portarti nella stanzina farti scegliere il materiale il colore la borsa il modello l'hardware e tutto quanto te la creano e poi ti dicono vabbè ci sentiamo quando e se sarà pronta e poi da lì te aspetti ma io conosco anche persone che non hanno cioè che hanno comprato anche soltanto meno di 1000 euro di altre cose tipo questo braccialetto qui ha fatto il suo wish e dopo nove mesi dopo sei mesi dopo un anno gli hanno ricevuto la chiamata che la borsa era arrivata quindi secondo me questa pratica un po' così predatoria descritta dalle clienti americane è una cosa che avviene soprattutto in alcune parti del mondo qui in Italia fatemi sapere se voi avete una Birkin se voi avete fatto il vostro wish se siete stati costretti in qualche modo a comprare prima centinaia di migliaia di euro di altri accessori o se lo avete fatto come la so io la storia però era una cosa carina da raccontarvi e quindi l'ho aggiunta in questo spill in the fashion fatemi sapere che ne pensate oppure no io ritorno a dire che geni del marketing Hermes perché ci guadagnano con l'artreos ci guadagnano con questa roba ci guadagnano come nome prestigio del brand è stupendo il brand d'altra parte a questa denuncia non ha ancora risposto ma rispose qualche anno prima riguardante questa polemica dicendo che il loro comportamento era dovuto soltanto perché avevano lo scopo di contrastare il mercato di rivendita delle Birkin e delle Kelly ed è per quello quindi che è così difficile averle anche perché io so una voce di corridoio non so se è una leggenda metropolitana oppure no chi ci lavora magari me lo può dire in un messaggio in direct oddio spero così di non essermi tirato la zappa su piedi per una Birkin in futuro però io so che i magazzini delle boutique di Hermes sono pieni di Birkin e di Kelly in realtà quindi sarebbe tutta una messa in scena il fatto che ci vuole tantissimo per averla e quindi è per quello che devi aspettare perché il tuo modello lo devono creare degli artigiani è vero che lo creano degli artigiani della qualità ma di borse ce ne sarebbero a dismisura sarebbe quindi tutto un fatto appunto per hype un fatto per mantenere alto il livello del brand io non ci vedo nulla di strano se uno se lo può permettere se uno può aspettare un anno anche per una borsa perché è quella che vuole perché no lo puoi fare no non sta la polemia in questo la polemica sta se te per avere una cosa che vuoi sei costretto a comprare centinaia di migliaia di euro di altre cose che non vuoi lì sarebbe una cosa alquanto imbarazzante ma comunque sei sempre libero di non comprare dico io ma chiudiamo questa seconda polemica un po' così frizzicarella perché dobbiamo parlare del terzo scandalo che ha investito la moda l'alta moda e in questo caso italiana perché notizia di questi ultimi giorni Giorgio Armani è stato accusato di caporalato e di sfruttamento allora facciamo un passo indietro che cos'è il caporalato io sono andato a cercare caporalato significato e Google mi ha dato questa risposta caporalato forma il legale di reclutamento e organizzazione della manodopera attraverso intermediari i caporali che assumono per conto dell'imprenditore percependo una tangente operai giornadieri al di fuori dei normali canali di collocamento e senza rispettare le tariffe contrattuali sui minimi salariali è scoppiato al finimondo ragazzi perché Giorgio Armani sarebbe colpevole non sappiamo ancora le indagini sono in corso nessuno ha fatto niente per quanto riguarda lui ma sarebbe appunto indagato per questo caporalato in quanto ha appaltato parte della sua nuova collezione 2024 a delle persone che a sua volta avrebbero appaltato e a delle altre persone che a sua volta avrebbero assunto quest'altre persone questa manodopera super mega sfruttata e più precisamente vi vado a leggere avrebbero trovato la produzione in opifici che l'opifici sono le fabbrie praticamente abusivi cinesi di abbigliamento e accessori venduti con marchio Giorgio Armani che stava attiva più di 14 ore al giorno 7 giorni su 7 anche nei festivi hanno trovato dei lavoratori che lavoravano e dormono in condizioni alloggiative degradanti pagati con una paga che va dai 2 ai 3 euro all'ora facendo turni massacranti di sfruttamento molte di questi lavoratori non avevano neanche il permesso di soggiorno in Italia quindi erano abusivi e nonostante la fabbrica comunque fosse cinese veniva applicato il made in Italy perché era sul suolo italiano e quindi da qui moltissime persone anche su Ticket e Tokete ho visto dei video si sono indignate perché hanno preso per esempio una borsa che Giorgio Armani fa pagare 1800 euro costo di produzione 80 euro perché li fa fare da questi cinesi ora perché si parla di esta osa perché è uscita fuori perché tutta sta storia emerge dal provvedimento del tribunale di Milano grazie anche alle testimonianze dei lavoratori con accertamento dei carabinieri in loco l'indagine leggo quindi si concentra su un presunto sfruttamento del lavoro attraverso l'uso degli appalti per la produzione di opifici abusivi con ricorso di manodopera cinese in nero l'azienda Giorgio Armani Operation è ritenuta incapace di prevenire e arginare fenomeni di sfruttamento lavorativo nel ciclo produttivo non avendo messo in atto misure idonee alla verifica delle reali condizioni lavorative insomma te appaltando le tue le tue produzioni ad altre persone non avresti indagato se queste persone facevano tutto bene oppure no e quindi non avendo visto non avendo indagato ti sei fatto fregare perché questi appaltatori avrebbero usato queste fabbriche cinesi in Italia per sfruttare la manodopera e quindi guadagnarci molto di più con una produzione che comunque è made in China ma in realtà è made in Italy perché questi operai cinesi lavorano in fabbriche cinesi ma in Italia no raga non ci si può fidare nemmeno dei brand di lusso io non so più che fa perché qui mi viene un mio pensiero ora se te compri dal fast fashion ok compri una maglietta che costa 10 euro c'è scritto grande come un bucio made in Bangladesh sta a te con la tua eticità se comprare quella maglietta perché ti puoi permettere quella e però dall'altra parte sai e sei a conoscenza del fatto che dietro quella maglietta c'è uno sfruttamento enorme di lavoratori in Asia oppure ti puoi affidare ai brand che costano un po' di più tipo i brand di lusso tipo Giorgio Armani con la dicitura made in Italy ma quella maglietta la pagherai 200 300 400 euro perché dietro il prezzo di quella t-shirt c'è sì il nome del brand ma c'è anche una lavorazione delle materie prime made in Italy e quindi sei sicuro eri sicuro fino a questo momento che se c'era scritto made in Italy in qualche modo appoggiavi anche il lavoro e i lavoratori del tuo paese senza gli sfruttamenti del Bangladesh dell'India e della Cina ora con questa roba che è venuta fuori capite che non ci si può affidare più di nessuno perché nonostante ci sia l'etichetta made in Italy chi me lo dice a me che te non ha fatto questi giochetti che hanno fatto loro made in Italy ma fatto dai cinesi con materie prime cinesi con cose cinesi ma è made in Italy perché l'industria cinese è qua nel suolo italiano ma a tutto questo l'azienda questa volta risponde e risponde così la società ha da sempre in atto misure di controllo di prevenzione atte a minimizzare abusi nella catena di fornitura la GA Operation la Giorgio Armani Operation collaborerà con la massima trasparenza con gli organi competenti per chiarire la propria posizione rispetto alla vicenda mi verrebbe da dire ora siamo tutti innocenti fino a prova contraria però sti cazzi dei controlli una controllato per nulla perché questi opifici sono a Bergamo ok cioè se hanno scoperto se i carabinieri hanno scoperto che c'è questo sfruttamento che ci sono delle persone degli operai cinesi che vengono sfruttati per fare le tue borse della collezione 2024 ripeto l'hanno scoperto loro te che hai appaltato non vai a fare un controllino prima di iniziare la produzione non vai a guardare oppure mi viene in mente cioè mi viene da pensare lo sapevi ma sei stato sgamato l'hai fatto cioè hai fatto buon viso a cattivo gioco perché come la stragrande maggioranza dei brand lusso non lusso ultimamente vogliono guadagnare sempre di più e investire sempre di meno sulla produzione ma così facendo altro che l'Europiana con 9000 euro di maglione fatto in lana del Perù qui le materie prime fanno cagher poi e allora cioè se io devo spendere 300 euro per una maglietta che è fatta del solito cotone made in China con cui compro le magliette su Shane altro che eticità ma chi me lo fa fa perché tanto non è etico uno e non è etico neanche l'altro ma in tutto questo vedremo cosa la magistratura dirà riguardante appunto la posizione di Giorgio Armani ma nel frattempo di tutta sta storia sono stati denunciati quattro titolari di aziende di origine cinese nove persone sono state trovate irregolari in Italia quindi senza permesso di soggiorno sono state fatte multe da più di 80.000 euro di ammende e 65.000 euro di sanzioni amministrative in più quattro aziende sono state sospese nel senso hanno dovuto sospendere la loro attività per gravi violazioni in materia di sicurezza e per utilizzo di lavoro nero o almeno qualcosa hanno fatto una storia del genere qualche tempo fa venne fuori anche per alviero martini ora io non so come finì quella faccenda ma so che ultimamente questi brand di lusso ma insomma tanto lusso non erano il lusso sono miliardi che guadagnano sempre di più a discapito dei lavoratori o a discapito delle materie prime allora è anche vero che io so che i loro magazzini ultimamente sono stracolmi sono strapieni di invenduti ci possono essere tantissime motivazioni per questo dopo il covid è ripartita la catena di montaggio magari boh pensavate che la gente ritornava a comprare le ose e quindi avete fatto creato fabbricato troppe cose e vi è rimasto invenduto ci sta che la gente non abbia più soldi e voglia di spendere 400 euro per una maglietta e quindi ha scelto altre vie ci sta anche che c'è la crisi in qualche modo e quindi le persone non è che si possano permettere di comprare spende spande robe di lusso come se non ci fosse un domani e ci possono essere tantissimi fattori sull'invenduto di questi grandi brand d'altra parte però non ti puoi lamentare che hai venduto a roba se poi vai a vai a giocare sulla produzione vai a giocare su questi materiali fatti in Cina così poi è normale che la gente non ti compra più perché vengano fuori la gente non si fida più ok io posso capire d'altra parte hai delle perdite sull'invenduto vai un attimo a cercare di guadagnare o di marginare su altre cose ma piuttosto che limitare le vostre spese questo è una mia opinione questo è il mio appello ai grandi brand ai grandi brand che non mi cagheranno ovviamente perché io sono il signor nessuno però è una mia opinione piuttosto che andare a tagliare i costi della produzione delle materie prime per fare e fabbricare le vostre cose ma perché non tagliate sul marketing cosa ce ne frega che voi avete pagato milioni e milioni di euro una star mondiale per la vostra campagna se poi le materie prime che avete usato fanno schifo risparmiate quei milioni per pagare le materie prime che hanno un valore e che quindi diano veramente un valore al nome del vostro brand di lusso perché se no è paragonabile a un qualsiasi altro brand di fast fashion che abbiamo di cui abbiamo parlato male fino all'altro ieri cioè la differenza tra il brand di lusso e il fast fashion deve stare nei materiali non deve stare sulla pubblicità dell'attore o del cantante kpop non ce ne frega un cavolo di vedere il cantante sui cartelloni io se spendo mille euro per un maglione voglio spendere quei soldi per la qualità oltre che per il nome del brand perché se io spendo mille euro per un maglione faccio un esempio di Gucci spendo mille euro perché pago il marchio ma io li voglio spendere anche perché do per scontato che sia made in italy e do per scontato che i materiali usati per quel maglione siano in qualche modo più belli più duraturi e più di qualità rispetto a un maglione di Zara che costa 40 euro se scopro che anche quei materiali sono gli stessi vuoi comprare da Zara anche perché a questo punto cade l'eticità dei lavoratori di Zara perché se il materiale di Zara è uguale a quello dei grandi brand di lusso anche i brand di lusso sfruttano i lavoratori la manodopera non lo so ragazzi qui potremo parlare di questa cosa all'infinito perché io adoro anche perché sono super scandalizzato sapete quanto shopping faccio no? e sapete anche quanto io sia contro la fast fashion a parte Zara perché ogni tanto ci sta però mi cadono dei miti uno dopo l'altro qui c'è uno scandalo dietro l'altro mo? fatto sta raga questi erano i tre scandali della moda di cui volevo parlare con voi fatemi sapere adesso voi qua sotto tramite commento cosa ne pensate se già sapevate queste storie o se vi ho aperto gli occhi rispetto a uno all'altro ora se usciranno altre cose io se voi volete vi posso fare anche una parte 2 anche una parte 3 una parte 4 insomma avete visto ormai in questo 2024 che gli spilling the tea non sono solo a senso unico ma possiamo trovare tantissimi spunti per parlare di tantissimi argomenti a voi dirmi se vi interessa un argomento rispetto a un altro detto questo io per oggi smetto di parlare iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto mettete mi piace a questo video se vi ha intrattenuto e impreziosito in qualche modo per oggi è tutto ci vediamo domani ciao